Leonardo Silva Revisore 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 Chi conosce questo quadro? alzi la mano. Questo dipinto si intitola Paesaggio con la caduta di Icaro. Ma dov'è Icaro? Lo vedete il figlio di Dedalo? Icaro è in fondo, sulla destra del quadro. Vedete le gambe che spuntano dall'acqua. E quello che amo di questo quadro è che l'elemento centrale, Icaro, non salta subito agli occhi. E se notate, anche le persone che si muovono all'interno di questo dipinto sembrano non notare il fatto straordinario che sta accadendo sotto i loro occhi. Un uomo che è caduto dal cielo e precipita in mare. Anche l'obesità ha qualcosa che è sotto i nostri occhi tutti i giorni, ma che spesso non vediamo. O magari lo vediamo, ma non ne percepiamo la drammaticità. E parlo dello stigma. Nonostante la comunità scientifica sia concorde nel ritenere l'obesità una malattia, una malattia cronica, una malattia complessa, una malattia recidivante, una malattia multifattoriale data dall'interazione di fattori genetici, di fattori ambientali, di fattori psicologici e opinione comune che il peso sia qualcosa sotto la propria responsabilità e che con la forza di volontà e l'impegno ogni persona può ottenere i cali di peso desiderati e raggiungere le forme corporee desiderate. E quindi l'obesità non è vista come una malattia, ma come una scelta, come una colpa, come il risultato di un fallimento personale, come il fatto che la persona non tiene molto a se stessa, perché appunto se ci mettesse la forza di volontà riuscirebbe a ottenere i cali di peso e le forme corporee desiderate. E a volte per qualcuno la soluzione all'obesità è semplice, magari è qualcosa di cui avete sentito parlare anche voi. Basta che mangi di meno e ti muovi di più, hai risolto il problema. E sarebbe come andare da una persona affetta da depressione e dirgli ho trovato la cura per te. Basta che sorridi di più e sei meno triste. Ma in realtà la questione è molto più complessa. Ma questa visione negativa dell'obesità, questa visione semplicistica dell'obesità porta le persone affette da questa condizione a sperimentare spesso denigrazione, discriminazione e una svalutazione sociale. E porta le persone affette da obesità a essere bersaglio di numerosi stereotipi negativi che le vedono come persone pigre, come persone goffe, come persone golose, come persone che non hanno forza di volontà. E l'obesità non una malattia, ma una colpa, una scelta. Quanti di voi possono aver avuto questi pensieri? negativi. Non preoccupatevi se anche voi li avete, perché questi atteggiamenti negativi sono comuni, sono diffusi a livello globale, sono sfortunatamente in aumento, sono difficili da modificare e sono socialmente accettati. E quindi è normale fare dell'ironia sul peso. Spesso però c'è anche chi è convinto che essere duri, stigmatizzare, possa motivare le persone a rendersi conto della propria situazione e a cambiare. Ma in realtà è proprio vero il contrario. E la ricerca ha dimostrato come lo stigma sul peso possa aumentare la vulnerabilità a depressione, ansia. Un'immagine corporea negativa possa portare a isolamento, solitudine, un senso di sentirsi inaiutabili, di sentirsi senza speranza, e nei giovani soprattutto anche a pensieri e atti di suicidio. E a volte la risposta allo stigma, la risposta emotiva al subire stigma, porta le persone, per esempio, a evitare l'attività fisica, a evitare le visite mediche, porta le persone a rispondere allo stigma mangiando più cibo. E questo, come potete ben capire, diventa un grande ostacolo alla gestione del peso e all'assoluta fisica e psicologica della persona. E a causa del peso le persone affette da obesità possono subire penalizzazioni nelle aree più importanti della loro vita. Per esempio nel lavoro si è visto come un candidato affetto da obesità ha meno probabilità di essere assunto rispetto a un candidato normopeso, nonostante abbiano un uguale curriculum. Si è visto come la persona affetta da obesità, soprattutto le donne, possono guadagnare di meno rispetto alla controparte normopeso, ottenere meno promozioni, ottenere meno incarichi di prestigio. Anche l'istruzione, la scuola è un luogo dove spesso il bambino affetto da obesità per la prima volta sperimenta lo stigma e a volte questo stigma lo accompagna lungo tutto il corso degli studi. Gli atteggiamenti negativi sono stati ritrovati anche negli insegnanti, nei coetani, nei compagni, negli insegnanti di educazione fisica. A livello relazionale quante storie mi vengono raccontate di bullismo, di presa in giro, di umiliazioni, di rifiuti. E quando noi subiamo un rifiuto il nostro cervello attiva le stesse aree del dolore fisico. E quante persone per paura di essere rifiutate mi dicono mi sono ritirato o ritirata. O quante persone non vivono cose che li piacciono per la paura del giudizio. Dottore io amo nuotare ma non vado in piscina. Per alcuni è difficile anche salire su un autobus. Ci starò in quel posto? Cosa penserà la gente? Alcune persone trovano difficile camminare in un parco per paura di essere guardati, per paura di essere abitati. Però magari la chiamiamo pigrizia, non ha voglia di fare. Quando magari domani guardate la tv, un telefilm, i cartoni animati, provate a notare come spesso, e questa è un'altra fonte di stigma, le persone affette da obesità sono rappresentate in ruoli stereotipati, ridicolizzati, in ruoli negativi. Pensiamo ad Adelio, il cugino di Harry Potter, anche come viene presentato nel libro. Un bambino obeso, un bambino egoista, un bambino capriccioso, un bambino bullo nei confronti del gracile Harry. provate a guardare le notizie che parlano dell'obesità, provate a digitare obesità su qualsiasi motore di ricerca. E le immagini che appaiono, non tutte fortunatamente, ma molte sono queste, immagini che alimentano l'idea della persona golosa, della persona pigra. e come vedete non c'è distinzione tra adulti e bambini che vengono rappresentati, che mangiano grandi quantità di cibo spazzatura, stravaccati sul divano, e spesso troviamo immagini, questo purtroppo avviene anche in alcuni convegni medici, di parti del corpo, glutei, addomi, cosce, che disumanizzano la persona affetta da obesità, disumanizzano la malattia. E noi medici, noi professionisti della salute, purtroppo anche noi non siamo immuni da questi atteggiamenti negativi verso l'obesità. E sono stati ritrovati in tutte le figure professionali, medici, infermieri, dietiste, psicologi. E questo può portare a un indebolimento dell'alleanza terapeutica, può portare il medico a dedicare meno tempo, ad avere meno fiducia nel suo paziente, ad avere meno pazienza. E dall'altra parte può portare il paziente a non avere fiducia nel sistema sanitario, a rifiutare le cure, o magari a trovare metodi alternativi dannosi, che diventano un vero attentato al proprio corpo. E un altro tipo di stigma nell'ambiente medico è che per l'obesità non sono offerti gli stessi livelli di cura che sono offerti per altre condizioni croniche. Ma uno degli effetti più dannosi dello stigma del peso è la sua interiorizzazione. Cos'è lo stigma interiorizzato? Che la stessa persona affetta da obesità pensa che tutti gli stereotipi che abbiamo visto prima siano veri. E quando ho il privilegio di poter insegnare ai futuri psicoterapeuti la psicologia, l'approccio psicologico al paziente affetto da obesità, dico sempre, quando entrerà nella vostra stanza il paziente affetto da obesità preparate due sedie in più perché spesso si porta con sé una grande vergogna e una grande autocritica. Dottore, guardi, non so neanche perché sono qua. Io sono un fallimento. Dottore, so che la deluderò, deluderò anche lei. Ho deluso tutti nella mia vita. So che è colpa mia e penso che non ci sia niente di più triste per un professionista della salute vedere una persona che già fa fatica perché non è facile chiedere aiuto e che si colpevolizza, si ritiene responsabile della sua condizione e parla di sé come un fallimento, come qualcuno che è lì a farti perdere tempo. ecco perché spesso con la persona affetta da obesità un grande lavoro è quello di evitare che sprofondi nelle paludi della colpa, nelle paludi dell'autocritica. purtroppo nel nostro lavoro c'è un alto tasso di abbandono della terapia da parte delle persone affette da obesità e il nostro grande compito è quello di evitare che sprofondino nelle paludi della tristezza. Cosa possiamo fare intanto? Un lavoro di squadra dove partecipi il mondo politico, il mondo medico, l'opinione pubblica ma soprattutto dove partecipi anche il paziente. La sua voce, la sua storia, i suoi bisogni, le sue esperienze. Nessuno in questo gioco di squadra deve rimanere indietro. Bisogna dire no allo stigma sul peso e bisogna ricordarsi che bisogna combattere l'obesità ma non le persone affette da obesità. E penso che adesso tutti vediate Icaro, ne cogliate la potenza e spero che da stasera anche possiate vedere meglio lo stigma sul peso. Perché il primo passo per ridurre lo stigma sul peso è riconoscerne la sua presenza. Grazie. 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 Grazie.